A seguito della bocciatura da parte della prefettura di svuotare la diga del furlo per consentire le ricerche di Riccardo nel corso privato dell'acqua, l'avvocato della famiglia Elena Fabri ha espresso il suo parere in merito, parlando soprattutto a nome dei genitori del ragazzo, testimoniando il loro stato d'animo. La famiglia ci contava molto sullo svuotamento della diga perché sarebbe stata comunque una risposta, una potenziale risposta, poteva essere anche persino un epilogo di questa vicenda. Tuttavia c'è stato spiegato in persona dal prefetto, il quale ha espresso tutta la vicinanza comunque alla famiglia per la delicatezza della situazione e anche per ciò che la famiglia sta vivendo in questo momento, che anche uno svuotamento della diga non impedirebbe comunque il passaggio dell'acqua del fiume Candigliano, quindi di fatto lo svuotamento totale della diga sarebbe in modo completo impossibile. La seconda cosa che ci ha tenuto a precisare il prefetto è che comunque ci sono delle zone, come è stato detto e precisato dai tecnici, particolarmente melmose, che non sarebbero comunque raggiungibili. Quindi è evidente che anche un completo svuotamento della diga, a quanto mi è stato riferito, non consentirebbe comunque una ricerca completa in alcune zone perché metterebbe a rischio comunque gli operatori. La famiglia è dispiaciuta perché è una famiglia che comunque sta cercando delle risposte, vivere senza sapere dove proprio figlio si trovi è qualcosa che veramente non si augura, è un ergasso lo possiamo dire. Tuttavia ci tengo a precisare che ovviamente questo non significa che le ricerche sono sospese perché noi stessi insieme con la famiglia anche stiamo incaricando delle persone proprio per continuare a cercare Riccardo, anche delle guide naturalistiche si sono messe a disposizione per la zona e ovviamente proseguono quelle che sono le indagini sul piano investigativo. Nulla esclude ovviamente che Riccardo possa essersi volontariamente allontanato e trovarsi altrove. Certo è che ovviamente la famiglia ci contava nell'avere una risposta ma sembra che per motivi tecnici questa risposta non sia possibile al momento.